Pergola, la città dei bronzi dorati e il suo territorio sono a rischio isolamento. Quattro strade provinciali su cinque stanno letteralmente crollando. L'accessibilità ai più vicini ospedali come Urbino e Fano è fortemente compromessa. Attività economiche e ricettive chiuse per la difficoltà di collegamento. Stante così le cose un tracollo socio-economico della comunità è dietro l'angolo. Il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, paladino del patto di piagge sulla sanità in provincia, ha indetto nella giornata di oggi una conferenza stampa urgente per lanciare una forte condanna verso gli organi competenti in materia di salvaguardia del patrimonio idrogeologico che si sta sbriciolando sotto i propri occhi. Ne ha per tutti e con i toni accesi e preoccupati del buon padre di famiglia punta il dito verso provincia e regione, rei di ignorare completamente il grido di dolore che da anni si leva dalla sua terra. Una provincia che frana e noi lo dicevamo da molto tempo che è l'esempio e l'emblema dell'Italia di oggi, un'Italia che crolla. Ecco, quali interventi state chiedendo? Sono oltre dieci anni che la nostra comunità cittadina, le nostre comunità anche di campagna, le nostre frazioni e la nostra amministrazione comunale chiede alla provincia di Pesaro Urbino, alla regione, interventi di manutenzione di queste strade. Ora, quei poche decine di migliaia di euro o quelle poche centinaia di migliaia di euro sono, visto questo di stesso, diventati milioni e milioni di euro di investimenti sulle strade per ridare transitabilità a questo territorio. Voglio rimarcare che è un versante in movimento, quindi a grave rischio idrogeologico, che riguarda in questo tratto oltre un chilometro di strade, ma è tutto l'arco collinare che separa le colline e i territori della Valle del Cesano con quelli del Metauro e quindi anche con Fano e con Urbino e il Monte Feltro. La politica si dovrà rendere conto dei danni che ha cagionato in questi anni e ora deve dare una pronta risposta. C'è stata un'elezione di un nuovo Parlamento e noi non abbiamo visto nemmeno un nuovo neoparlamentare a prendere atto, almeno della situazione esistente. Il Consiglio regionale è stato eletto tre anni fa, non abbiamo visto nemmeno un consigliere regionale venire a prendere atto della situazione che stanno vivendo questi territori dell'entroterra. Allora io dico chiaro e tondo al Presidente della Regione che non esiste solo il dissesso del San Bartolo, ma mi dica perché ancora è chiuso in un cassetto, almeno così sappiamo, la dichiarazione dello stato di emergenza, di calamità naturale di questo territorio. Voi di queste frazioni dell'interno state da tempo però gridando un grido d'allarme che vorreste essere ascoltati. Si grida, come si dice, vendetta perché questo problema che abbiamo sulle strade noi circa 10-12 anni fa già una prima istanza mandata al Prefetto l'avevamo fatta raccogliendo delle firme. 4-5 anni fa di nuovo una seconda istanza. Questi problemi qui in questo posto dove ci troviamo ora, ma anche più a valle andando verso Fano avevamo sempre quei problemi inascoltati. fanno fuori i muri, fanno fuori questo salto, ci sono tutti loro.